Filippo Pizze e Cozze, un oasi di relax ed ottima cucina a San Vito Taranto in Viale Ionio 355. Ambiente elegante e raffinato per trascorrere le vostre serate d'estate all'insegno delle prelibatezze e della buona cucina. Una ricca varietà di pizze cotte con il forno a legna, con 48-72 ore di lievitazione. Tra le novità, 7 pizze speciali chiamate come i 7 peccati. Cucina genuina e tradizionale, antipastini vari a base di cozze, primi piatti di pasta fresca con cozze, tartar di pesce fresco, cucina a vista, vini, birre artigianali di vario genere, cortesia e professionalità nel servizio, attenzione nel soddisfare le esigenze del cliente. Inoltre, disponiamo di un'ampia area per gli eventi privati, per vivere i momenti più belli e significativi, con sobrietà e riservatessa. Filippo Pizze e Cozze soddisfa i palati più esigenti. Vi aspettiamo!